Come le serre, i missili atomici e le radiocampali, anche i motoscafi possono essere fatti in casa. Basta del materiale in vetro sintetico, del cartone e molta buona volontà. Bisogna anche non avere paura del naufragio. Comunque si stende la tela, si fissa allo scafo con dei punti metallici cercando di evitare il buco. Poi qualche rapido colpo di pennello e con l'aiuto del fuoribordo, via! Si affronta il mare aperto senza troppa spesa e timore. Secondo la pubblicità di un tale di Long Island, anche lo yacht è alla portata di tutti.